I vostri figli fanno capricci quando devono mangiare verdure e legumi? E allora ecco Food Fairy Tales, un'app educativa dove le fiabe sono fatte di verdure e legumi. L'app è un libro illustrato contenente storie e buffi personaggi che potrete realizzare in modo semplice e veloce. Infatti, premendo sul bottone di ghiotto, l'orso al chef, vi apparirà la ricetta. Con Food Fairy Tales potrete far giocare i vostri bambini con i piatti delle fiabe. Infatti, come potete vedere, strafinando il dito sullo schermo, apparirà come per magia un piatto. Per poter visualizzare un nuovo piatto, sarà sufficiente cliccare sul bottone in basso a destra e nuovamente strafinare col dito sullo schermo in modo da far apparire un nuovo piatto. Tra le varie funzionalità di Food Fairy Tales, c'è anche quella in cui potrete colorare, utilizzando sempre un dito, i personaggi rappresentati nelle storie. Tra le varie opzioni potrete scegliere il tratto della matita, utilizzare la gomma in caso di errori, oppure cancellare tutto e ripartire da zero per colorare lo stesso disegno, magari con colori diversi. Il vostro disegno potrà essere salvato sul dispositivo oppure allegato in automatico a un'email e spedito a chiunque. E quindi, buon divertimento e buon appetito con Food Fairy Tales. E quindi Grazie a tutti